C'è grande attenzione a Montecatini Terme, non possiamo permetterci problemi in un sito unesco. Sono queste le prime parole di Massimo Garavaglia, ministro del turismo, in visita oggi alle terme di Montecatini. Un tour cominciato alle terme Redi. Il ministro ha aggiunto che laddove ci fosse necessità di un intervento, il governo farà di tutto per trovare delle soluzioni. Dal punto di vista turistico, Montecatini, ha detto ancora Garavaglia, può diventare un simbolo di uno sviluppo strutturale del turismo in Italia legato alle terme. Il successo del bonus terme, dice ancora il ministro, ha fatto riscoprire questo prodotto agli italiani. E' nostra intenzione poi con il sindaco fare un convegno proprio qui a Montecatini per sviluppare la parte sanitaria che negli anni si è un po' persa. I medici di medicina generale si sono un po' dimenticati, tra virgolette, di quanto bene possono fare le terme, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. Ministro, lei in una delle sue ultime visite si è dimostrato favorevole all'ingresso del privato, si sta andando in questa direzione, invece da parte del governo quali saranno le mosse? Guardi, il governo segue con attenzione la vicenda. Come dicevo prima, quando sarà tutto chiaro ognuno farà la sua parte, la regione socio di maggioranza farà la sua parte. Noi sopporteremo il comune per quello che possiamo e vogliamo fare. Abbiamo come Ministero del Turismo con Cassi Depositi un fondo dedicato proprio agli investimenti in strutture iconiche e questa senz'altro è una di queste. Quindi una volta che il quadro è chiaro e ognuno fa la sua parte, Montecatini tornerà a essere quella che è. Montecatini. L'ingresso del privato si sta parlando di un'azienda in particolare. Che cosa ci vuol dire Sindaco rispetto a questa eventualità? Innanzitutto si è parlato impropriamente di trattative avviate, mentre non è così. C'è una manifestazione di interesse, c'è un interesse concreto da parte di un privato e forse anche di altri e questo è un elemento che abbiamo sempre definito positivo perché significa che le termine sono attrattive e significa che c'è la possibilità anche di valutare l'ingresso di capitali privati nel capitale sociale della società. Non è obbligatorio come percorso, potrebbe esserci, potrebbe iniziare quella che si definisce una trattativa, la trattativa potrebbe anche non iniziare e potrebbe anche non concludersi. Quindi bisogna anche tenere sempre in considerazione e lavorare altri, parallelamente, diciamo altre possibilità. Dalle terme redi poi il Ministro Garavaglia a piedi, accompagnato dal Sindaco Baroncini, dall'amministratore unico delle terme SPA Alessandro Michelotti, da alcuni componenti il Consiglio e la Giunta Comunale, si sono spostati alle terme Tettuccio.